La verità sulle bolle finanziarie. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Ragnali Bandini, sono un trader e un investitore. Se vi piace il mio lavoro, se volete sostenere tutto quanto quello che faccio qui sul tubo, vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare subito un bel like, per me è davvero tanto importante. Detto ciò, addentriamoci subito nel vivo del video. Bisogna andare a sfatare tanti miti sulle bolle finanziarie e capirne meglio le dinamiche e per farlo ci aiuteremo qui con questo articolo che si trova all'interno di Bloomberg e poi anche con il grafico del Nasdaq 100 e anche molti altri. Secondo me è abbastanza illuminante, quindi seguitemi fino alla fine, sono tanti i contenuti che troveremo in questo articolo. Allora, è bellissimo, inizia con la brutta verità sulle bolle di mercato è che tutti perdono, everyone, cioè proprio ognuno perde. E' chiaro, ci saranno coloro che si arricchieranno, che guadagneranno, sono veramente pochi, ok? E andremo a vedere perché le dinamiche che vanno a ingenerare una bolla portano a perdere un po' tutti. Ora, spostiamoci qui sul Nasdaq 100, perché ultimamente ho parlato con alcune persone e ho detto ok, è un indice buonissimo con delle aziende mature fortissime, però attenzione, non è assolutamente detto che nei prossimi anni questo indice salirà nella stessa identica maniera. Lo vedo improbabile, può accadere, nessuno conosce il domani e bisogna stare in guardia. Quello che voglio sempre dire lo sto sottolineando negli ultimi video e non voglio ingenerare paura o provocare una vendita o scappare via, io rimango investito, però bisogna prendere coscienza che le cose non rimangono sempre uguali. Ci sono dei momenti che si rovesciano improvvisamente e con forza. Siccome vediamo questa configurazione, non possiamo dare per scontato che proseguirà, anche se ci sono tante aziende forti che vanno a caratterizzare il mondo che viviamo ad oggi, ok? Andiamo qui su Max e troviamo una configurazione abbastanza simile a quella del passato. Vedete qui, negli anni 2000, guardate la curva degli ultimi 4-5 anni, dal 1995 al 2000, non è così dissimile alla curva di crescita in termini percentuali e quindi anche poi di configurazione grafica che stiamo vedendo qui dal 2015-2016 ad oggi, non sono degli andamenti sostenibili. Questi ovviamente sono dei principi di carattere generale. Tutte le bolle hanno delle forti analogie che bisogna conoscere e inisolabilmente finiscono nella stessa maniera. Tuttavia è chiaro che vi sono delle differenze caratterizzate dai sottostanti, dalle epoche diverse e quindi da criteri, da situazioni specifiche è normale. Anche qui il Nasdaq 100 è un indice molto diverso, molto più maturo. Se andiamo a vedere che tipologia di aziende ci sono e hanno il maggior peso, magari qui nel 2000 alcune non esistevano, oppure erano delle realtà molto più piccole, molto più giovani, addirittura alcune non profittevoli, delle scommesse per il futuro. E soprattutto era un indice in generale drogato, esasperato. Conosciamo la storia della .com, quindi non c'è bisogno che la vada a raccontare a fondo, in 20 secondi, praticamente all'epoca vi era veramente una FOMO su tutte quante le aziende che erano connesse a internet, che erano novità e tutti ci scommettevano. Istituzionali, hedge fund, retail, che fossero. E quando tutti quanti cominciano a comprare come se non ci fossero domani, questa è la fine che fa il nostro settore di riferimento. Però bisogna andare più a fondo, queste sono ancora delle banalità. Andiamo un po' qui giù. E guardate, qui notiamo appunto la crescita del Nasdaq, quindi uno zoom sulla realtà del 2000. E l'autore dell'articolo si è rivolto a uno degli smartest hedge fund managers, ovvero, tradotto, a uno dei manager più brillanti, ok, degli hedge fund che esistano. Quindi uno che ha vissuto quell'era. E va a raccontare come quasi tutti i suoi colleghi, hedge fund, gestori, persone riconosciute come brillanti, si siano bruciate, si siano annientate e distrutte. Sia che fossero degli scioltisti, insomma un po' brutto come termini, però ormai prendiamo i termini anglofoni e li traduciamo, no? Un po' in italiano in questa maniera qui. Quindi tutti coloro che scommettevano a ribasso, ma come è possibile? Poi ci arriviamo, qualcuno sicuramente si sarà arricchito, ma molti pochi, poche persone diciamo, poi anche quello andiamo a vedere, e come si siano bruciati tantissimi tori, tantissime persone che insistevano, che continuano a comprare al mediare al ribasso, a fare il buy the dip. Infatti qui la teoria qual è? Ma in realtà ci racconta che quella è stata la pratica e lo sarà probabilmente anche in futuro, anzi direi quasi certamente. Praticamente gli orsi hanno un difetto. che sempre entrano troppo presto al mercato e i tori hanno un altro difetto. Vanno a comprare ogni crollo, il famoso buy the dip, ma non si può fare un every dip, ok? Buy the dip, cioè tutti i crolli, è sbagliato, poi lo vedremo, e rimangono a lungo, cioè troppo a lungo, all'interno di questa festa che in realtà si trasforma in un dramma, perché questa è la verità. E qui guardate che qui entrò nel 95, si ritrovò dei guadagni stratosferici, ok? Qui si parla addirittura di performance in tre anni, ok? Del 353%, salvo poi vedere nei due anni successivi un crollo dell'83%, è normale, non tutti saranno qui entrati sull'apice, e qui qualcuno male sarà entrato nel 98, nel 99, si sarà bruciato i guadagni, avrà visto magari un meno 15, un meno 20, che ha comprato 4-5 anni prima, avrà visto azzerarsi i suoi guadagni, e comunque brucia, altri sono andati veramente distrutti, soprattutto chi cavalcava fra il 99 e il 2000. Cioè, veramente, penso che abbia procurato qualche suicidio, più ai gestori di hedge fund magari che a qualche persona privata. È successo veramente un disastro. Andiamoci a vedere adesso, ad approfondire un altro settore, che ci va a sottolineare del perché non sia assolutamente facile fare short, perché non mi vedete mai parlarne, perché non lo faccio, salvo casi eccezionali, e poi vi dico come lo faccio. Ma me ne ricordo tutti, eh? Sono veramente pochissimi. Perché? Perché, guardate, questo è un indice che ci fa vedere nel 2005 qual era un andamento di tutte quelle società che erano collegate ai costruttori di case, ok? Collegate a quel mega settore. E chi conosceva i fondamentali dello stesso si era accorto che le cose cominciavano ad andare malissimo. Vi erano veramente lo spettro del disastro davanti a sé. E questo lo si poteva comprendere, molti dicono, già nel 2004, nel 2005, soprattutto, nel 2005, il mercato era già in bolla rispetto ai suoi fondamentali, perché, guardate qui, questa parte dal 2005 fino qui al 2002, quindi, nei tre anni precedenti, una crescita spaventosa, non giustificata da quello che stava per accadere. molti hanno cominciato in questo scenario sui massimi ad aprire le posizioni short. Che è successo? Che l'indice ha proseguito una corsa per alcuni mesi di un 30-35%, in pochi mesi, e in tanti si sono bruciati, tanti coloro che qui scommettevano si sono fatti male, hanno dovuto chiudere le posizioni, non si può rimanere aperti a tempo determinato. Dovete ricordarvi che quando voi entrate long su un titolo, al massimo potete perdere tutto quanto quello che scommettete, a meno che voi operate in leva, ma secondo me siete matti, voglio dire, dei mercati come quello azionario, dei mercati, ad esempio, come quello cripto soprattutto, già sono molto volatili, pericolosi di per sé. C'è bisogno di esasperare ancora il concetto di volatilità e di pericolosità con la leva? Un conto è un piccolo margine, possiamo utilizzarlo, però bisogna essere esperti, bravi e deve essere contenuto, ma non si possono vedere leve 2x5x10%, è pura follia. Quindi qui comunque ci si fa male e invece, quindi dato per scontato che non siamo degli scemi o delle super leve e quindi che scommettiamo o investiamo solo i soldi che veramente abbiamo, al massimo possiamo perdere quello che abbiamo investito in un titolo long, quindi scommettando a rialzo è normale, si a zera, fallisce, ho perso tutto e già fa malissimo. Ma chi scommette short si espone a un pericolo illimitato a una perdita che tende a infinito potenzialmente. Lo abbiamo visto tramite ad esempio gli short squeeze provocati da Wall Street Bets negli ultimi due anni, che significa che se un titolo per dire quota 10 e ha dei fondamentali pessimi, noi pensiamo beh, questo va a 5, vado short, scommetto fra 10 e 5, poi mi prendo un profitto, mi metto uno stop loss a 11, difficilmente ci va, ho un rapporto rischio-rendimento di 1 a 5, se va a 11 vendo, altrimenti lo cavalco fino a 5. Va bene, ma che succede se escono delle notizie, se tutti quanti cominciano a pompare quel titolo, se cominciano tutti quanti a chiudere le proprie posizioni di bassistia per chi si sono accorti che sta succedendo una follia, ci siamo dimenticati di seguire il mercato, magari lo stop loss non era ancora entrato, insomma, magari il titolo sta a 10 e il giorno dopo sono casi eccezionali, ma che succedono? Ti apre a 50, ti apre a 100, il nostro stop loss se si trova a 11 e il mercato ha chiuso a 10 e poi li apre a 100, scatterà comunque a 100, anche se era a 11, perché non ha trovato nessuno fra 10 e 100 per vendergli il titolo. Un'altra superata 11, il nostro ordine stop loss cosa dice tramite il broker al mercato? Ok, chi è il primo che se la compra sopra a 11? Ma se il primo è a 100 noi ci siamo bruciati 10 volte quello che abbiamo scommesso. Ora, sicuramente questi sono dei casi veramente super eccezionali, più unici che rari, ma quello è il concetto per dire il titolo potrebbe aprire a 12, a 13, a 14, a 15, quello si è, quello può succedere benissimo e quindi ci bruciamo un 40, un 50% tutto quanto insieme, questo accade molto di più. Quindi bisogna porre la massima attenzione. io tendo ad andare short quelle pochissime volte che lo faccio tramite l'acquisto di opzioni put. Vado a pagare semplicemente un premio, anche per chi non ne capisce le opzioni, sappiate, pagate semplicemente un premio, magari 50 o 100 dollari, se voi avete ragione il titolo va malissimo, guadagnerete, altrimenti avete perso soltanto quello. Quindi questo è l'enorme vantaggio di operare con le opzioni, problemi che a volte sono abbastanza cari, quindi bisogna addirittura entrare in momenti non sospetti. Non è per nulla facile prevedere queste dinamiche. In tanti vanno ad affermare ah se io fossi stato nel 2007 con le conoscenze che ho oggi avrei shortato tutto e fatto i miliardi, ah se fossi stato nel 2009 avrei comprato tutto e mi sarei cavalcato un decennio, sarei andato all in, mi sarei venduto casa, no non è vero perché solo col segno di poi è facile, nel mentre è complicatissimo, tant'è vero che si fanno male addirittura delle persone considerate brillanti, sono falliti gestori amministrati da premi Nobel ok, per la matematica, quindi non è soltanto una questione tecnica, è spesso e volentieri una questione soprattutto emotiva. Continuiamo ancora a scendere e si va a contestualizzare ad oggi sulle non profitable tech basket, quindi su un cestino, su un paniere di azioni tech ancora che non generano profitto ad altissima crescita, quelle di cui parliamo tutti quanti noi qui sul tubo eccetera, abbiamo visto il loro declino a seguito dello scoppio della pandemia febbraio-marzo dello scorso anno e poi un'accelerazione pazzesca e si trovano in sopravvalutazione sicuramente qual è quindi l'errore, abbiamo visto qual è il problema di chi fa short e abbiamo visto qual è il problema dei tori perché nelle bolle tutti si fanno male perché cominciano subito a comprare andare forte sui primi dip, sui primi crolli quindi buy the dip buy the dip compro sempre di più compro sempre di più ma ci sono degli scenari ok, come questo guardate qui compro il primo buy the dip a quanto sono stato furbo vedi come sale e poi vi è un secondo crollo poi vi è un terzo crollo vi è un quarto crollo una depressione totale a livello di prezzi ora io non lo so e nessuno lo sa questa è la verità se a questa diciamo su questo pianale accadrà la stessa cosa però c'è una buona probabilità è uno scenario che bisogna prendere in considerazione qui dentro c'è tanta immondizia io mi sono esposto su aziende che fanno parte di questo settore va bene ma le ho scelte una ad una quindi ho cercato di scremare sono esposto anche su altri settori altre aziende completamente distanti proprio anni luce da queste e soprattutto chi mi segue lo sa io non vado all in sul primo buy the dip è chiaro prendo delle posizioni mi lascio sempre lieto della liquidità sono pronto a comprare i successivi buy the dip cioè i successivi dip e a fare il buy a comprarlo eventualmente perché so che ci possono essere che è probabile se non ci sono se non ci sono intanto comunque sono investito su altro ho i miei piani di accumulo ho tutti quanti i miei investimenti di cui vi parlo ho preso comunque una mia prima posizione e crescerà quella va bene così mi porterò a casa dei profitti ma io devo partire dal rischio per me è importantissimo guadagnare ma lo è ancora di più preservare il mio capitale o buona parte di esso quindi tutta quanta questa lezione per non incorre negli errori in cui cascono praticamente quasi tutti tant'è vero che abbiamo visto il film Big Short abbiamo visto quei film quei libri che ci raccontano i grandi successi sulle scommesse al ribasso del 2007 e 2008 ma questi signori che ci sono riusciti sono diventati delle vere e proprie leggende ci sarà un motivo vuol dire che è difficilissimo vuol dire che è improbabile significa che una bolla spazza via quasi tutti fa veramente male questa è la verità perché va a esasperare a esasperare dei movimenti di mercato quindi l'emozione degli uomini e quindi i loro errori e anche un'esposizione estrema dei risultati in termini dei percentuali poi è chiaro che qualcuno che si arricchirà sicuramente c'è ma non date per scontato che siate voi anzi quindi partite state sempre sulla difensiva bisogna sempre operare con prudenza in maniera conservativa ma non rimanere bloccati e quindi poi si sta fermi ecco quella strategia ok primo ingresso contenuto se ci credo qui ma attenzione può andare a finire a 50 cioè questo è il concetto fatemi sapere voi che ne pensate sul destino di alcuni mercati finanziari le non profitable tech oppure sul nasdaq 100 che insomma è pieno di aziende in realtà profittevoli estremamente differenti qui dal 2000 più mature ecco secondo voi al nasdaq nei prossimi anni cosa accadrà cioè proseguirà questo movimento andrà a lateralizzare oppure crollerà e vi dico già una cosa la mia previsione quella di un analista quella di un guru è la vostra si è interrotta misteriosamente la registrazione stavo cercando di dirvi che hanno esattamente il medesimo peso perché nessuno al mondo è in grado di prevedere il futuro soprattutto nel breve nel medio termine lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo l'unica previsione estremamente attendibile che può sfiorare il 100% ma questa percentuale non esiste in nessuna cosa è dire fra 20 anni fra 30 anni la borsa americana nel suo complesso quella globale nella sua totalità cuoterà sicuramente di più rispetto ad oggi ma tutto quello che c'è in mezzo è davvero imprevedibile io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi auguro il meglio se questo video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale laddove non lo aveste ancora fatto e di lasciare un bel like vi auguro degli ottimi investimenti ciao